Adesso mi collego con il nostro Domenico Marocchi perché c'è una storia che credo ha colpito chiunque di noi abbia ascoltata. È una storia che somiglia un po' a un film, a una favola e ci fa, come dire, tornare un po', rientrare in quella che è la bellezza del valore dell'umanità, della comunità, dell'empatia, del contatto con l'altro. È una storia che parte da un ponte tibetano dove qualche giorno fa una donna ha cercato di togliersi la vita, ma lì c'era qualcuno pronto ad aiutarla. Domenico. Sì, Serena, per raccontare la storia di cui tu parlerai bisogna partire da questo ponte. Siamo sulle Dolomiti, siamo a Perarolo di Cadore. Questo ponte, costruito nel 2018, collega appunto il paese alla Val Montina. Guarda, qui sotto c'è uno strapiombo di 80 metri e qui sotto c'è il torrente Montina. Ecco, in questo scenario meraviglioso però si è consumato anche il dramma di un'anima. Che cosa è successo lunedì? Lì c'è il tiro a segno delle persone, fra cui anche l'assessore di questo comune, vedono una donna che si trovava proprio oltre queste recinzioni, che voleva togliersi probabilmente la vita. A quel punto il sindaco del comune, che ringrazio per essere venuto qui, Pierluigi Bartutoferro che è qui con noi, grazie. Poi ci racconterà che cosa ha visto il sindaco. Ecco, a quel punto il sindaco dà l'allarme ai carabinieri e arriva qui sul posto, proprio laggiù in fondo, poi arrivano a piedi, una pattuglia con due carabinieri, un uomo e una donna. La carabiniera, la donna, si fionda immediatamente qui sul ponte. Arriva, la signora aveva scavalcato, era proprio su questo tirante. Guarda, te lo faccio vedere e lì comincia un racconto, più che un racconto è un flusso continuo di anime e di condivisione e a quel punto noi ci fermiamo. Scusami Domenico, fammi capire bene, lei era al disfuori della rete, aveva già scavalcato la rete? Esatto, la signora si trovava proprio serena, pensa, sospesa su questo cavo, qui fuori. Poi, le persone, fra cui appunto il sindaco, come ci racconterà, e l'altro carabiniere, si fermano lassù, avanza lungo questa passerella, lungo questo ponte tibetano, con una tranquillità, però comunque anche con molta attenzione, questa carabiniera, e comincia a parlare con la donna che si trova al di là appunto di questa recinzione. Una donna, ripetiamo, aggrappata praticamente a quel cavo. Esatto, allora, la donna, mi venirebbe da dire carabiniera, ma mi spiegano domenico che si dice carabiniere, quindi la carabiniere che è salita sul ponte e oggi è qui con noi, e poi ci racconta questa, che è una storia fortunatamente a lieto fine, non solo fortunatamente, ma è a lieto fine anche per la sua straordinaria umanità, dolcezza e capacità di entrare in connessione con l'altro. Lei si chiama Martina Pigliapoco. Mi fido di te, 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 ci possiamo dare del tu? Sì, certo. Accomodati. Martina, vi dico subito che lei non è stata forse emozionata sul ponte, quanto lo è adesso nello stare qui, ma non perché sei giovanissima, perché non hai nemmeno 26 anni, ma perché appunto senti su di te anche l'onore e l'onere di rappresentare l'arma dei carabinieri che fin da bambina hai voluto, fin da bambina volevi diventare una carabiniere. Martina, allora, torniamo a quel giorno, era lunedì, giusto? Sì, lunedì. Tu arrivi su quel ponte, siamo a San Vito di Cadore. Per Arolo di Cadore. E che cosa, come arrivi su quel ponte, perché arrivi tu per prima? Allora, il ponte ha una via d'accesso che è un sentiero di montagna, di ghiaia in salita, e noi siamo arrivati con l'autovettura di servizio, io e il mio collega, nel parcheggio sottostante all'imbocco del sentiero e da lì si vedeva già il ponte tibetano in lontananza e abbiamo notato che ancora la signora era sul ponte, quindi c'era ancora possibilità di far qualcosa. Dopo un'ora che era lì sospesa, no? Esatto, era già tempo che stava lì. E tu che hai fatto? Hai cominciato a correre? Abbiamo intrapreso il sentiero, entrambi, io ho cominciato a correre, ho corso fino a su in cima dove c'era il sindaco di Per Arolo che mi ha indicato dove era la signora, ho preso un attimo di fiato e successivamente ho iniziato a percorrere il ponte. Mentre camminavi sul ponte, vedevi questa signora e quando hai cominciato a parlarle, quali sono state le prime cose che le hai detto? Ho cominciato a parlarle appunto mettendo il primo piede sul ponte. Ecco questa è la foto, questa è una foto che ha fatto il giro dei giornali, dei telegiornali, dei social, perché quella sei tu, seduta per terra e lì c'è la signora sospesa. Sì, la signora è sempre stata in quella posizione, non ha mai fatto né un passo a destra né a sinistra, sempre ferma sopra il filo e io ho iniziato a intraprendere il ponte passo dopo passo, non in maniera repentina, piano. E appena la signora mi ha vista arrivare, mi ha detto fermati, fermati. Io l'ho sentita solo quando sono arrivata nella posizione dove mi trovo seduta, perché comunque c'erano tanti rumori di sottofondo tra il torrente e il vento. E quando ho sentito che la signora non voleva che mi avvicinassi, mi sono fermata, però lei non si fidava, mi continuava a dire di non muovermi, perché sennò si sarebbe buttata. E per farle capire che quindi si doveva fidare di me, ho deciso di sedermi a terra, in modo da farle capire che non avrei fatto niente, che lei non avesse voluto e ero lì solo per aiutarla. E peraltro la cosa bella di questa storia, da un punto di vista proprio umano e di capacità di entrare in rapporto con l'altro, è che Martina non è una negoziatrice, no? Nei film americani spesso li vede, esistono anche fra di noi, no? Anche in Italia, anche in Europa. Cioè sono persone che sono state, diciamo, preparate ad affrontare situazioni di emergenza di questo genere. Tu invece hai dato retta solo al tuo istinto. Che cosa pensavi in quel momento? Qual era il tuo pensiero più forte? Devo fare in modo che non cada. Devo convincerlo a non cadere e a fidarsi soprattutto. Devo capire qual è il suo problema e dove posso far breccia nella situazione. E quindi questa cosa che tu volevi che lei si fidasse di te, il fatto di sederti, ti sei messa in una posizione più bassa, proprio per dire non verrò mai addosso a te, no? Esatto, esatto. Non so perché in quel momento ho pensato a quell'azione. Ma la testa e il cuore forse hanno agito da soli e mi sono seduta a gambe incrociate. Nella foto non si vede che sono a gambe incrociate perché quella è stata fatta quasi alla fine dell'intervento e quindi erano già più di tre ore che ero così. Tu sei stata più di tre ore in quella posizione a gambe incrociate. Sì. Era più la disperazione o la speranza? Davanti ai miei occhi avevo continuamente l'immagine che lei cadeva nel vuoto. Cioè mi immaginavo che lei cadeva e non potevo fare niente. L'unico modo per scarciarla, questa immagine, era pensare che l'avrei abbracciata invece. E infatti poi alla fine così è stato. Ci sono stati momenti di sconforto durante tutto l'intervento perché non riuscivo a trovare un punto, un dialogo con la signora perché la signora non mi rispondeva, non proferiva quasi nessuna parola. E quindi dopo un po' di minuti, cioè dopo parecchi minuti non sapevo più che pesci prendere, come si suol dire. E quindi lo sconforto è stato, c'è stato insomma. Però per fortuna... Perché tu all'inizio su di che cosa le dicevi all'inizio dell'intervento? Cioè che cosa le hai detto prima e che cosa invece è stato secondo te risolutorio per portarla poi a scavalcare quella rete e poi ad abbracciarti? Allora all'inizio le informazioni basilari, quindi ho cominciato a chiedere inizialmente come si chiamava il nome per poterla chiamare con il suo nome e quindi un rapporto diretto. Lei te l'ha detto quindi è stato un buon segnale se vuoi. In realtà lei mi ha detto un nome che poi abbiamo scoperto che non era quello. Quindi non era un buon segnale. Io pensavo di sì, pensavo di sì, nel senso che per me era il suo nome, il suo nome e la provenienza. Però sono state tutte informazioni molto frammentarie e proprio tirate, nel senso che farfugliava, non mi guardava, guardava in giro nel vuoto, guardava giù, faceva movimenti comunque ripetitivi e compulsivi, ma di fatto in tutto quello che le chiedevo dagli argomenti più frivoli per cercare di instaurare con lei un rapporto di dialogo, d'amicizia magari o comunque di vicinanza, niente. E neanche con gli argomenti più salienti che ci interessava sapere, quindi il motivo per il quale era lì, quale problema l'affliggesse, cose di questo genere. Lei poi accettava che ci fossi solo tu su quel ponte, no? Sì, subito dopo di me è arrivato quindi il mio collega che si è tenuto a distanza e il comandante di stazione competente per territorio, quindi di Pieve di Cadore, con poi successivamente tutta la macchina dei soccorsi che si è mossa, quindi vigili del fuoco, primo intervento del 118, soccorso alpino dell'arma dei carabinieri. Però lì c'eri solo tu? Lì c'era solo io perché la signora non voleva neanche vedere nessun altro, quindi tutta la macchina dei soccorsi è stata fatta indietreggiare e si è nascosta dietro il primo promontore utile. E tu hai sentito ancora a maggior ragione, ne immagino, la responsabilità perché a quel punto una vita umana era affidata solo a te, anche se detto così è ovviamente enorme, perché poi non è che tu potevi avere, cioè sei stata molto brava, però anche se non ci fossi riuscita non era colpa tua ovviamente, però immagino la responsabilità in quel momento. Sì, ero sola e avevo solo il comandante di stazione che era penso a 100 metri da me e non riuscivo neanche quasi a sentirlo parlare, cercava di comunicarmi qualcosa ma non riuscivo, io per fortuna avevo il cellulare con me e quindi ce l'avevo in mezzo alle gambe e riuscivo a messaggiare tramite whatsapp con tutta la macchina dei soccorsi che stava comunque con me, che mi sosteneva. Ma ti sei messa a nudo anche te su quel ponte? Ho raccontato tutto della mia vita, tutto quello che pensavo potesse farla pensare, farla aprire con me magari, e quindi ho fatto un monologo di tre ore praticamente perché appunto non mi parlava la signora e quindi in tre ore qualcosa mi dovevo inventare. E la frase risolutaria qual è stata? Quando abbiamo capito che, quando lei mi ha ammesso finalmente che aveva dei figli e quindi ho capito che aveva una famiglia con lei e per fortuna abbiamo capito anche che la famiglia non era l'elemento scatenante della crisi ma in realtà era un elemento a favore, un elemento positivo da sfruttare per farle capire che valeva la pena vivere e star vicina alla propria famiglia. E tu l'hai detto a un certo punto, immagina che io sia la tua quarta figlia, giusto? Sì esatto. Come ti è avvenuta questa frase? Perché la signora ha più o meno l'età della mia mamma e quindi ho pensato, ho visto su quel filo mia madre potenzialmente e lei comunque diceva che non valeva la pena che i suoi figli insomma avessero una mamma con così tanti problemi o comunque una mamma non all'altezza magari e io le ho fatto capire, ho cercato di farle capire che è comunque sempre meglio a mio parere averla una mamma con tutti i suoi errori, sbagli perché tutti noi facciamo errori, tutti noi non siamo perfetti e quindi era sempre meglio averla una mamma al proprio fianco piuttosto che vivere una vita senza una mamma. E a quel punto tu l'hai vista che scavalcava questa rete che abbiamo visto nel collegamento e tornava indietro? E le sei andata incontro? Esatto, io non immaginavo che riuscisse a scavalcare perché comunque dopo cinque ore la signora era stanchissima si vedeva che tremava, era stanchissima quindi avevo paura che anche nell'intraprendere la strada di ritorno quindi scavalcare la rete non ce l'avesse fatta e magari accidentalmente cadesse nel vuoto quindi lì è stato il momento di tensione più assoluta perché volevo cercare di tirarla su in tutti i modi ma è stata lei che si è arrampicata dalla parte esterna della rete, è arrivata a cavalcioni sul culmine e da lì sono riuscita a tenderle la mano e a afferrarla e prenderla con me l'ho abbracciata forte quando è scesa e entrambe siamo scoppiate a piangere in un pianto liberatorio e di gioia per me di gioia assoluta Martina, grazie per quello che hai fatto, io vorrei tornare su quel ponte dove c'è sempre Domenico con il sindaco e peraltro noi ovviamente non diciamo nulla di questa signora perché abbiamo un massimo rispetto della privacy e se non aggiungerei quello che tu ci hai detto che appunto con tutti i nostri difetti l'importante è amare e sapere di essere amati perché poi nessuno di noi è perfetto questo lo dico a tutte le signore d'Italia che magari stanno andando in momenti di sconforto però appunto hai toccato la corda più vera e forse la corda quando ci si immedesima talmente tanto nell'altro tu ti sei immedesimata come se fosse una tua figlia come se fosse una sua figlia è stato quello forse il momento nel quale l'empatia si è raggiunta al massimo e quindi Domenico vorrei anche dire al sindaco vegliate su questa signora perché sì, perché insomma so che lo farete anche come strutture sociali no? Sindaco Certo, certo, buongiorno Serena, grazie Sì, beh innanzitutto se posso permettermi un abbraccio virtuale a Martina quell'abbraccio che avrei voluto darle quel giorno, lunedì e che purtroppo le circostanze non mi hanno permesso di farlo Perché noi Serena ricordiamo che il sindaco ha visto Martina arrivare lei ha questa immagine che mi ha colpito molto prima appunto del carabiniere perché per arrivare qua su si deve arrivare a piedi per forza l'ha vista arrivare e poi voi siete rimasti lì tutti quanti a guardare questa immagine quindi quello che hai avuto tu è il racconto di Martina, Serena però poi c'eravate tutti voi a guardare questa scena per quattro ore Cos'è che l'ha colpita di più? Beh innanzitutto quando è arrivata Martina perché è arrivata trafilata mi ha messo una mano sulla spalla se si ricorda mi sono presentato come sindaco, poi lei è partita di corsa e insieme con il suo collega il carabiniere poi è arrivato anche il comandante della stazione siamo rimasti un attimino defilati perché la signora si agitava come giustamente diceva Martina e credo che se ci fossimo avvicinati noi sicuramente non saremmo riusciti a compiere il miracolo che Martina ha compiuto quindi secondo me Martina non sei stata forte, sei stata splendida, meravigliosa se non ci fossi stata tu probabilmente una vita umana l'avremmo apparsa grazie davvero sindaco, grazie a tutta la comunità chi salva una vita salva il mondo intero quanto di più vero si possa dire in questo momento Memo e Jessica cosa dedichiamo a questa umanità? Una storia straordinaria abbiamo scelto una canzone serena che inizia proprio così io non ti conosco, io non so chi sei per cui questa cosa si avvicina molto a quello che è successo al gesto che ha fatto questa splendida signorina e ha salvato una vita con il suo gesto allora abbiamo scelto questa canzone io non ti conosco, io non so chi sei so che hai cancellato in un gesto i sogni miei sono nata ieri nei pensieri tuoi eppure adesso stiamo insieme non ti chiedo sai quanto resterai cura un giorno la mia vita io saprò che l'ho vissuta anche solo un giorno ma l'avrò fermata insieme a te che ormai sei mio tu l'amore mio insieme 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 bravi questo lo dedichiamo anche a Riccardo che è tuo marito vi siete separati peraltro adesso eh già bravo Riccardo tua moglie deve farsi la sua strada e quindi poi dopo vi riunirete però questo è il tuo senso